Ho sotto mano un'antologia di scuola media. Guardavo una specie di testa nel quale si chiede ai ragazzini di dire, di valutare qual è il lavoro dei miei sogni. E allora le caratteristiche di questi lavori dei sogni sono suggerite in una serie di ipotesi. Essere liberi dal controllo degli altri. Essere emozionante. Favorire negli altri il piacere di imparare. Essere basato sul lavoro di gruppo. Essere privo di rischi. Poter essere premiato per l'impegno. Dare la possibilità di diventare un personaggio noto. Permettere di esprimere le proprie opinioni. Permettere di migliorare le condizioni di vita delle persone. Avere molta concorrenza. Permettere di imparare sempre cose nuove. Permettere di lavorare in squadra. Dare garanzie di stabilità. Permettere di avere contatti con persone importanti. Permettere di avere incarichi di grande responsabilità. Permettere di poter fare quello che piace. Permettere di avere idee e realizzare progetti originali. Permettere di aiutare le persone in difficoltà. Avere molti imprevisti. Permettere di arricchire le proprie conoscenze. Permettere di essere stimati per le proprie capacità. Offrire grandi possibilità di successo. Permettere di dare il meglio di se stessi. Permettere di passare a livelli sempre più elevati. Permettere di sperimentare nuovi metodi di lavoro. Presentare sempre situazioni nuove a cui doversi adattare. Permettere di aiutare le persone a crescere e a maturare. Permettere di inserirsi bene nel proprio ambiente di lavoro. Avere mansioni quotidiane, ordinate e programmate. Prevedere la possibilità di dover prendere decisioni che riguardano molte persone. Molto bello come sogno. Poi vado a vedere, tutto sommato, cosa hanno potuto realizzare anche i miei figli, insomma. Ma no, se questi sogni possibili rientrano in un lavoro concreto, in possibilità che hanno avuto i miei figli nell'affrontare la vita lavorativa, visto che hanno tutti un'età, diciamo, al di sopra dei 30 anni. Quindi un'età in cui uno deve avere anche realizzato il suo sogno lavorativo. E mi accorgo che tutte queste cose qua, o la gran parte di questi possibili sogni che si fanno e che riguardano il lavoro, non solo non vengono realizzati in pratica, ma rimangono delle utopie. Poi metterli tutti insieme diventa veramente imbarazzante al giorno d'oggi. Allora mi chiedo, noi, quelli della mia generazione, insomma, che hanno affrontato il lavoro, il problema del lavoro 50 anni fa circa, avevano gli stessi sogni riguardo al lavoro, oppure si accontentavano anche di meno? Punto primo. E poi però, questo lavoro, che magari realizzava meno sogni, o questi sogni erano realizzati solo per alcuni, per pochi, si sapeva che potevano riguardare solo pochi, ma alcuni di questi, per esempio una possibile stabilità, erano abbastanza, non dico garantiti, ma promessi con una certa possibilità di essere realizzati nel lavoro. E anche, per esempio, la possibilità di avere uno stipendio che garantiva, un unico stipendio, un minimo di andamento della famiglia. Uno stipendio di un operaio, seppure con una certa, diciamo, difficoltà, ma permetteva di mantenere una famiglia e di avere anche più di un figlio, perché allora i figli unici, come me, erano molto pochi, le famiglie avevano più figli, anche quelle meno benestanti, meno agiate. Com'è andato cambiando il lavoro? Allora, dove si trovava occupazione? Si trovava occupazione, per esempio, non so, contadini, no? Ce ne erano molti. La gran parte delle attività degli italiani, allora, era un'attività contadina. E i contadini, pur con difficoltà così, però i figli di una famiglia contadina entravano in un meccanismo per cui automaticamente riproducevano il lavoro dei padri e avevano, se non altro, una possibilità già da piccoli e poi crescendo di imparare un mestiere e di viversi in qualche modo. Ma l'attività contadina è andata disgregandosi quasi totalmente, passando, non so, dal 70-80% che erano i percentuali di 100 anni fa al 3% di adesso, no? Le dimensioni dei fondi sono andate sempre più aumentando, le piccole proprietà contadine non riescono più a sopravvivere, insomma, sta di fatto, la terra è stata consumata in altri modi, sta di fatto che la possibilità di vivere dell'agricoltura è diventata una possibilità che ormai riguarda solo pochi. E poi c'erano gli artigiani, c'era la possibilità di imparare un mestiere a bottega o dal proprio padre o andando a bottega da qualcuno, insomma, no? E lì, nel lavoro degli artigiani, c'erano tante attività artigiane, insomma, che erano riconosciute e che garantivano una vita decente, una qualità di vita decente. Poi c'erano le attività commerciali, c'erano i piccoli commercianti, c'erano tutti i negozi, i negozietti, insomma, e anche lì c'era la possibilità di cominciare o di entrare nella bottega dei genitori oppure di intraprendere anche con poco investimento, insomma, intraprendere un'attività anche con pochi mezzi che potesse dare un minimo di garanzia, di sopravvivenza. Poi magari nel tempo si cresceva, ma i negozi che fallivano, insomma, cioè le attività imprenditoriali di piccola imprenditoria come quella dei commercianti, sopravvivevano, difficilmente fallivano, insomma, andavano avanti per anni, insomma, non avevano bisogno neanche di grossi prestiti bancari per iniziare, insomma, spesso iniziavano e poi si sviluppavano nel tempo. E poi c'erano, vabbè, poi c'erano attività operaie, insomma, evidentemente, c'erano tanti operaie e la paga di un operaio, seppur modesta, però con quelli che erano i bisogni di allora, si riusciva, un operaio riusciva, con certe difficoltà, ma insomma riusciva a mandare avanti anche da solo una famiglia. Se poi c'erano in due si riusciva anche a mettere da parte qualcosa. E anche quando tu entravi in fabbrica avevi certe garanzie e anche di una certa stabilità del lavoro e poi con il 68 anche di, come dire, di una certa assistenza dal punto di vista sociale, insomma, no? Avevi acquistato anche dei diritti di tipo sindacali che ti permettevano di avere uno stato sociale che poi ti dava una pensione, eccetera, eccetera. Poi due cose. Quando tu lavoravi, spesso avevi la sensazione di fare qualcosa di utile. Insomma, l'operaio in fabbrica, seppure con tutte le contraddizioni, con tutte le lotte che sono state fatte, ma insomma, produceva delle cose, produceva frigoriferi, lavatrici, automobili. Insomma, aveva la sensazione di fare qualcosa che in quel momento era utile alla società, erano oggetti che servivano, no? Quindi si sentiva, magari era un anello di un ingranaggio, tutto quello che si vuole, però faceva qualcosa che era utile, di cui vedeva l'utilità. E anche spesso faceva qualcosa che era progettato per durare nel tempo, cosa che adesso non c'è più. C'è l'obsolescenza programmata, invece no. E anche il commerciante, insomma, anche il piccolo rivenditore, il salumiere, il cartolaio, il ciabattino, insomma, erano tutti mestieri che davano la sensazione a chi li faceva di fare qualcosa che era utile per gli altri. Si sentiva utile. Io mi ricordo che, insomma, mia mamma aveva una, insomma, nella fase più buona, insomma, del suo lavoro, aveva una pulitura a secco. Ecco, insomma, lei si sentiva importante per questo, insomma. Cioè, quando è andata, quando non ha più potuto lavorare, perché aveva tanti anni, ormai il negozio era fuori regola, diciamo così, non poteva più andare avanti. Però, lei è dispiaciuto molto rinunciare a questo lavoro, perché lei si sentiva in questo lavoro una signora, aveva i suoi contatti, era realizzata, si sentiva importante con questo lavoro, perché faceva qualcosa per gli altri. Andava e veniva dai clienti, li portava i vestiti a casa, chiacchierava, le offrivano il tè, non so, ma si sentiva, in questa attività, si sentiva importante. Perché, tra l'altro, se la gestiva da sola, era autonoma, era un piccolo lavoro, ma era un lavoro che dava la sensazione di essere utili agli altri, di fare qualcosa che serviva. E poi c'era il fatto che, per la gran parte delle, come dire, delle necessità che c'erano per gestire una famiglia, per fare le cose che servivano, intendo pagare le bollette, fare la denuncia dei redditi, provvedere alle cose fiscali, andare in banca e, non so, aprire un... allora saranno i libretti di risparmio, insomma, fare tutte queste cose qua, uno da solo, anche l'operaio più... per essere la quinta elementare, allora, insomma, no, quindi anche l'operaio con la quinta elementare riusciva a farsi le cose da solo. non aveva per lo più bisogno di altre figure intermedie, no? Per esempio, denuncia dei redditi. Io mi sono sempre fatto la denuncia dei redditi, per conto mio, fino a... non so, fino alla metà degli anni Ottanta. Poi è successo qualcosa per cui man mano la vita è diventata sempre più complessa e sempre più attività intermediarie si sono inserite nel momento in cui tu sei diventato meno capace, sei stato reso meno capace di provvedere a te stesso. Mi riferisco alla denuncia dei redditi. a un certo punto hanno cominciato a subentrare i commercialisti e uno non è stato più capace di farsi la denuncia dei redditi da solo. È diventato complessa quella fazenda e come quella molte altre, no? Come dire, poi nel momento in cui hanno cominciato a lavorare i commercialisti evidentemente o figure come queste, insomma, figure intermediarie, quando hanno cominciato a lavorare queste figure ovviamente hanno avuto necessità di acquistarsi spazi, no? Quindi sempre più le persone normali sono diventate incapaci di fare quelle cose che prima riuscivano a gestirsi da sole, no? Per cui non avevano bisogno di altre figure a cui rivolgersi, le facevano da soli. Poi man mano invece hanno dovuto sempre più rivolgersi a queste figure che sono diventate sempre più indispensabili, sempre più necessarie. Pensiamo anche agli avvocati per esempio, no? una piccola controversia che uno potrebbe gestirsi benissimo adesso, no? Ha bisogno di farsi difendere dall'avvocato e quindi di pagareci e ovviamente sempre più queste cose sono andate rinforzandosi, cioè sempre più queste categorie di persone che intermediavano tra delle capacità che tu non avevi più delle possibilità che non riuscivi più ad usare per farti le cose che ti servivano e sempre più ti dovevi rivolgere a figure intermedie e sempre più queste figure intermedie hanno trovato delle nicchie, degli spazi e quindi sempre più hanno cercato di rendere necessario indispensabile il loro lavoro e quindi di toglierti la capacità di fartelo da solo tu piccolo operaio piccolo artigiano piccolo imprenditore piccolo commerciante sempre più hai avuto bisogno di rivolgersi ad altri per fare quelle cose che prima ti facevi da solo quindi sei stato espropriato di capacità no sempre più devi ricorrere ad altre figure intermedie e questa cosa delle figure intermedie poi tra l'altro tra parentesi insomma no sono venute a meno tante tante attività no pensiamo alle segretarie d'azienda non le segretarie mi ricordo che c'erano le scuole di steno d'attilografia quando io ero ragazzino no mi ricordo dei parenti che hanno frequentato cioè si andava a imparare a steno graffare ad attilografare e a fare la segretaria no nei vari uffizi nelle varie aziende chi adesso va più fare la segretaria va a fare la steno d'attilografa finiti tanti lavori no tanti lavori non servono più sono stati riassorbiti mentre prima si faceva una carriera di studi ma lo sbocco lavorativo pensiamo anche ai periti industriali insomma no cinque anni di scuole superiori perito tecnico industriale si trovava lavoro anche un buon lavoro che poi permetteva una crescita nel tempo adesso questi lavori ovviamente non ci sono più certo non si può pretendere che le cose rimangano sempre uguali no i tempi cambiano e cambia la struttura del lavoro cambiano le esigenze ma qual è la linea fondamentale che io trovo no quella di creare una come dire una necessità di avere delle figure intermedie sempre più importanti sempre che diventano che acquistano un peso sempre maggiore quindi tecnici specialisti insomma cose varie a cui ti devi per forza rivolgere quindi non sei più capace di fare le cose da solo poi questi lavori che ti gratificavano perché avevi una certa autonomia perché avevi una certa sicurezza del posto di lavoro perché avevi una certa sicurezza anche che poi a una certa età avresti potuto andare in pensione ecco tutti questi lavori sono più o meno scomparsi la possibilità di intraprendere nelle piccole attività commerciali è sparita riassorbita dai centri commerciali i negozi sono vuoti anche nei centri storici insomma i negozi non si affittano più oppure chi ha un negozio non sa poi cosa che attività mettersi sopra l'investimento che deve fare per provare un'attività che poi probabilmente fallisce è troppo grande e non vale certamente la candela di intraprendere mentre si vanno prospettando degli altri lavori che non hanno più o che hanno molto meno queste caratteristiche insomma queste caratteristiche che riguardano ancora il sogno però che si ha o che si cerca di vedere o di mettere nelle menti dei ragazzini che sognano ancora la loro vita lavorativa di un futuro sempre più ci si va spostando nel terziario e cercando delle nicchie che possano prevedere di trovare uno spazio di inserirti in uno spazio che è uno spazio non più di produrre cose che abbiano un peso una sostanza un'automobile una lavatrice un frigorifero insomma o cose del genere ma sempre più cose tipo il software insomma sempre più cose fuggevoli sempre più cose che non hanno corpo e che sono destinate a svanire a venire continuamente soppiantate ad essere continuamente rimpiazzate o perché hanno vita breve o perché hanno anche durata breve nel senso che vengono immediatamente superate da altre tecnologie e da altre cose che spesso sono consumi non più utili no anzi sono consumi di distrazione ieri per esempio mi è capitato di andare in un piccolo paese Monsedice qui vicino a casa mia e andare al centro e il centro era pieno si faceva fatica pur essendo un piccolo paese si faceva fatica ad attraversarlo in automobile e c'era molta gente in strada ma chi era questa gente in strada e chi lavorava erano i ragazzi che facevano che bevevano l'aperitivo insomma c'erano le attività commerciali che c'erano e che lavoravano erano quelle dei bar dove si consumava aperitivo si consumavano liquori si consumavano alcolici insomma e dove i ragazzi si trovavano per poter parlare però quello era il consumo principale insomma lì c'era lavoro insomma quelli che approfittavano di quelle serate e quelli che avevano queste attività insomma per poter poi magari far fronte anche al resto della settimana dove magari sarà meno gente perché magari il lavoro di quelle attività è concentrato soltanto in due tre sere alla settimana come dire quando si si vede o si cerca non trovando altrove di fare un'attività commerciale ormai si va a finire quasi sempre in qualcosa che abbia a che fare con alcolici di bar se si vede nelle città ormai sono piene di di bar di cantine di enoteche che so io insomma il resto qualcosa di abbigliamento tutto poi rifluisce nei centri commerciali centri commerciali che adesso cominciano o andranno in crisi anche loro perché man mano che che Amazon insomma che si può comprare via internet sempre più la gente comprerà via internet e questo poi costringe nuovamente gli artigiani e chi lavora chi lavorava fino adesso vendendo anche il prodotto oltre che la mano d'opera per installare il prodotto non so mi riferisco ai gommisti mi riferisco a chi vende le scarpe mi riferisco agli idraulici che ti vendevano la caldaia tutte queste persone qua adesso come dire cercano di rifarsi perché nel momento in cui ti compri o l'olio per la macchina o le gomme in internet oppure la caldaia per il riscaldamento in internet queste persone poi si rifiutano di farti l'installazione di un prodotto che non ti vendono loro perché ovviamente perdono man mano una quota di guadagno e poi tutte le altre insomma no quando tu ti compri direttamente le cose e te le portano a casa anche i centri commerciali ne risentono no ti compri il computer non più un centro commerciale ma te lo compri direttamente via Amazon e allora anche i centri commerciali che un po' alla volta hanno soppiantato tutte le piccole attività commerciali non trovi più per esempio un negozio molto difficilmente un negozio che vende non so minuteria elettrica lampadine queste cose qua vai direttamente al bricco e così via un negozio che vende chiodi o minuteria metallica non lo trovi più ferramenta insomma no raramente hanno chiuso quasi tutti vai al bricco dove dove sulle piccole cose tra l'altro adesso cominci a pagare anche prezzi alti no e allora è cambiato la struttura del lavoro insomma è cambiata la struttura del lavoro e allora poi era interessante tutta questa pappardella ve la dico perché poi vado a vedere nella stessa antologia quali sono i lavori che si prospettano ai veri sognatori che non dormono mai questo è il titolo dell'antologia no e quindi i lavori che ancora non esistono cioè le professioni del futuro che ci dice dove stiamo andando il fabbro il falegname il canzolaio la pulitura a secco il fiorista il venditore di dischi l'elettricista il lattoniere la ricamatrice che fine hanno fatto questi lavori insomma dove li trovi qualcuno nei centri commerciali ma nella città non non li trovi più o molto poco quali sono le professioni che ti si prospettano è interessante no interessante anche capire come cambia il linguaggio quando eravamo alle elementari e ci hanno chiesto cosa volete fare da grandi e quando ci hanno chiesto questo non so la gran parte dei miei compagnetti di scuola hanno detto l'aviatore alcuni hanno detto l'ingegnere poche altre cose non mi ricordo ma comunque erano lavori diciamo concreti adesso cosa cosa si prospetta per il futuro secondo uno studio del World Economic Forum pubblicato nel 2017 65% dei bambini che oggi sono alla scuola primaria da adulto farà un lavoro che oggi non esiste nemmeno quindi come dire è difficile prospettarsi un lavoro che ancora non esiste ci vuole molta fantasia no prima si intravedeva un lavoro che esisteva vedo quel lavoro vedo quel professionista vedo quell'operaio vedo quell'artigiano che fa quella cosa a me piaceva molto per esempio mio zio che faceva il falegname lo andavo ad aiutare quando avevo una decina d'anni insomma mi faceva fare delle cose che mi piacevano molto l'odore della colla piantare i chiodi insomma era tagliare con la sega nastro piallare le tavole sentire l'odore del legno era molto bello per me era affascinante no ma era un lavoro a cui potevi dedicarti e pensare che magari avresti potuto farlo perché esisteva lo vedevi e quindi se no io quando avrò vent'anni vorrò fare il falegname magari no ma adesso come fai a pensare a dei lavori che ancora non vedi che non ci sono che magari esisteranno allora continuo a leggere questa professione fa riflettere accanto a professioni popolari e diffuse e alcune altre artigianali come abbiamo visto queste ultime pagine da riscoprire si trattava del calzolaio dell'orefice una cosa del genere vi è la certezza che acquisendo le giuste competenze e allenando la capacità di guardare oltre con genialità quindi bisogna essere un po' geniali adesso per pensare a cosa si potrà fare un domani da grandi dico per i bambini no ciascuno può inventarsi il lavoro del futuro in passato il lavoro c'era lo si trovava insomma bastava che ti piacesse e che avessi la la bontà la capacità la volontà di impararlo e di farlo adesso no adesso il lavoro te lo devi inventare l'articolo che proponiamo ipotizza alcune delle professioni che si diffonderanno non troppo in là nel tempo ma le più interessanti devono ancora essere pensate siamo alla difficoltà che hanno i nostri ragazzini di pensare a un lavoro che potranno fare insomma no e di prepararsi a un lavoro che ancora non esiste quindi per prepararsi a un lavoro che non esiste bisognerà prepararsi a essere abili in tutto bisognerà sapere un po' di tutto per poter poi avere il bacino da cui trarre le competenze per per fare quello che ancora non c'è ma che si potrà fare ma che sarà una cosa molto complessa probabilmente tra l'altro bisogna imparare fin da subito a sapere bene l'inglese cosa che io non so purtroppo e siccome qua si adoperano tanti termini specialistici inglesi perdonatemi allora quali sono queste 15 professioni del futuro allora la prima lo specialista di crowdfunding quello del crowdfunding conosciuto anche come finanziamento partecipato è un settore dalle enormi potenzialità lo specialista in questo ambito dovrà essere capace di promuovere e ottimizzare i risultati di questo strumento per i progetti a lui affidati poi c'è secondo il cultural scale sherpa questa figura professionale aiuterà i soggetti interessanti a sviluppare ed acquisire competenze per ambire a nuove e più rilevanti posizioni lavorative quindi sarà chi ti consiglia a chi devi consultare per cercare di crescere di trovare un altro lavoro migliore probabilmente poi c'è il curiosity tutor per alcuni la curiosità è un difetto per altri è un preso di sicuro è un metodo per apprendere cose nuove ed ecco come nasce la figura del curiosity tutor cioè una persona che ha il compito di creare le opportune suggestioni delle persone e innescare i personali processi creativi poi c'è lo psicoterapeuta digitale fra smartphone computer e social network la nostra vita sta diventando sempre più digitale per disintossicarci non è escluso che prima o poi dovremmo affidarci a un terapista esperto di digitale si tratta di una figura professionale che aiuterà a gestire stress e manie compulsive derivanti dall'utilizzo esagerato dei supporti digitali qui un minimo di conoscenza digitale pratica me lo sono fatto sul campo un'esperienza di psicoterapia almeno clinica insomma no quale neurologo ce l'ho se qualcuno vuole approfittarne non ha gratis però cioè se ha bisogno come ho già detto in un altro video di trovare qualcuno che li ascolti perché è molto importante ripeto essere ascoltati al giorno d'oggi soprattutto quando si è stressati se ha bisogno di parlare ecco io sono a disposizione sono vecchio ma ho la possibilità di cominciare anch'io una nuova professione il computer ce l'ho la capacità di ascolto ce l'ho però non è tutto gratis nella vita è un lavoro quindi pensateci volete qualcuno che li ascolti ecco qua poi c'è il pilota di droni i droni è una bella cosa il drone è simpatico me lo sono comprato anch'io un drone poi non lo uso ma è bello pilotare un drone insomma pure con tutti i limiti che ci sono perché non puoi andare vicino agli aeroporti devi sapere tante cose per pilotare un drone devi poi saper usare bene il programma nel cellulare che ti permette di controllare il volo perché a un certo punto lo perdi di vista insomma è una cosa complessa il drone o aeromobile a pilotaglio remoto è un velivolo caratterizzato dall'assenza di un pilota umano a bordo questo velivolo viene infatti pilotato da un computer sotto il controllo remoto di un navigatore o pilota direttamente dalla terraferma ecco allora che ci vuole tutto un programma per gestire il volo di questo drone visto che la domanda di professionisti in grado di pilotare il drone è in costante aumento non solo per usi militari pensiamo invece all'uso che ne fanno i fotografi per fare i matrimoni dall'alto anche in altre cose cioè la ripresa per esempio di gare sportive che viene fatta dall'alto con i droni ecco allora sarà un professionista molto ricercato nel futuro sempre finché i droni saranno attuali poi magari verrà fuori qualcos'altro nel posto del drone chi lo sa la tecnica si modifica così rapidamente a proposito vedevo il video di un sogno che ho sempre avuto fin da bambino e che pensavo che la tecnica avesse realizzato o stesse per realizzare insomma no era quello che che mi questo lo dico pensando al drone insomma no era quello di di avere uno zainetto con delle leve con un con un propulsore a reazione diciamo così allora ti metti lo zainetto e parti e fai un non so viaggi a 30 40 50 60 metri di altezza al centro che so io e vai da una città all'altra in poco tempo insomma no a una velocità a una velocità gestibile insomma no poi arrivi direttamente sul posto dove ti serve andare superi il traffico non hai problemi vai in linea dritta non hai le strade non hai il semaforo non hai tutte queste cose qua arrivi scendi ti togli lo zainetto e e sei là no ha stato pensato come una cosa bella la tecnica si potrebbe dare si potrebbe inventare in poco tempo e poi ho visto insomma su youtube che c'è un signore che ha inventato non tanto uno zainetto ma insomma una specie di un qualcosa che ci si mette sotto i piedi e con questo qualcosa che sta sotto i piedi e che ha questa spinta reazione eccetera lui fa dei dei percorsi e anche delle evoluzioni abbastanza lunghe lo si vede molto sui video di youtube e mi pare che abbia attraversato anche la manica una cosa del genere quindi insomma ci siamo verso queste cose qua insomma allora se si riuscisse direttamente a salire a salire a stare in con un piccolo zainetto a reazione insomma così magari si potrebbe anche non dico superare il drone insomma ma magari fare direttamente dall'alto quelle riprese o quelle cose che magari adesso si fanno fare ai droni no magari non è così ci sono due cose diverse ma ho sempre pensato a quale vantaggio potrebbe dare il fatto di avere uno zainetto a reazione e non so come dovrà funzionare quel problema della tecnica ma insomma che ti porti in poco tempo in linea d'aria diretta quindi evitando anche gli incidenti del traffico eccetera eccetera da una città all'altra parlo di breve distanze perché poi spesso la nostra attività è fatta sulle breve distanze è lì che poi troviamo il traffico gli intasamenti e tutti i problemi connessi a queste cose qua no allora va lo zainetto ti prendi la tua levetta ti alzi direttamente in verticale poi vai in orizzontale e poi scendi direttamente magari sulla terrazza o sulla piazza dove dove devi andare insomma e invece continuiamo qui c'è anche Rand Schooling Consuelor tanto per parlare di altre figure professionali che ha dispetto del nome che ha dispetto del nome e allora perché chiamarlo con questi nomi antisonanti che a dispetto del nome si tratta semplicemente di un motivatore scolastico abbiamo bisogno anche del motivatore scolastico l'Eck Schooling Consuelor è infatti una figura che invoglia gli studenti a fare esperienze supplementari e a guardare oltre il mondo dei modelli scolastici tradizionali poi c'è il printing handyman in passato c'erano esperti tutto fare in grado di riparare qualsiasi oggetto mi ricordo che durante un viaggio in Turchia la cosa di cui sono rimasto stupito erano questi piccoli chiostri densissimamente popolati di oggetti di cose di schede varie il viaggio risale agli anni 80 e dove riparavano tutto c'era questo omino che era capace di aggiustare qualsiasi cosa adesso invece oggi visto il crescente uso di stampa in 3D si sta facendo largo uso la figura del printing handyman ovvero un esperto di stampa 3D e di materiali di recupero poi c'è l'archivista personal finalmente un nome in italiano cosa fa organizzare catalogare e dare senso a quello che a vario titolo abbiamo fatto nel corso della nostra vita ed ecco un lavoro che spetterà all'archivista personale e chi non ha fatto niente nella vita punto di domanda poi c'è il digital vid manager quando una persona muore lascia una miriade di tracce digitali account di posta elettronica siti web password è qui che entrerà in gioco il digital vid manager ovvero una persona che gestirà o eliminerà il ricordo digitale del defunto sarà dura per chi dovrà eliminare una volta che io sarò defunto il mio ricordo digitale vabbè pazienza cavoli suoi consulente della privacy il consulente della privacy avrà il compito di individuare le carenze e le vulnerabilità anche quelle online a cui le persone si espongono quotidianamente al fine di tutelare la riservatezza di ognuno chi se lo sarebbe sognato una volta un consulente della privacy poi c'è l'urban shepherd si tratta di uno specialista e questa è simpatica si tratta di uno specialista in grado di esportare il verde per impiantarlo dove non c'è negli angoli più insoliti e spogli delle città pubblici e privati e curandone ogni aspetto praticamente questa figura professionale rappresenta un mix tra il giardiniere un contadino e un urbanista anche i contadini riprendono un piccolo spazio nella nella visione del futuro poi c'è il personal digital curator non ricordate la password di un account non avete tempo di gestire il vostro sito web niente paura ci penserà il personal digital curator a questa persona spetterà di consigliare e gestire l'universo digitale personale di chiunque ne faccia richiesta poi c'è lo skype staging skype è il leader mondiale della messaggistica istantanea e delle telefonate e videochiamate spesso a distanza notevole lavorare in questo settore richiede competenze capacità e buona dialettica soprattutto quando si interviene in videoconferenza lo skype staging aiuta e consiglia quelle persone che devono fare bella figura da lontano poi c'è il quantificate self personal trainer oggi il lavoro di un personal trainer è quello di consigliare una dieta ed esercizi specifici ai clienti ma in un futuro molto vicino dovrà anche analizzare i dati connessi al fitness al fine di migliorare e ottimizzare le prestazioni e le scelte dell'utente poi c'è l'alternative currency speculator le monete digitali come il bitcoin stanno spopolando queste valute alternative sono già una realtà e quindi non è azzardato pensare a figure professionali che sappiano investirle e gestirle efficacemente ecco questo è il futuro verso cui ci stiamo muovendo e a cui ci stiamo rivolgendo ed è il futuro che spetta che vedranno i giovani che dovranno anzi prevedere e creare i giovani per crearsi queste nuove opportunità di lavoro che non so quanto saranno stabili vista la rapidità con cui avvengono i cambiamenti e quanto quindi dovranno continuamente rinnovarsi e quanto se ne dovranno inventare di nuove ma quello che è l'elemento che secondo me traspare è sempre più l'inconsistenza del prodotto sempre più un prodotto virtuale che non ha più quelle caratteristiche che poteva essersi quando tu costruivi un oggetto che poteva essere un oggetto d'arte che poteva essere un elettrodomestico che poteva essere qualcosa che poi ti servivi usavi nella vita pratica a cui ti affezionavi che durava nel tempo che aveva ecco i quali costruivi anche un rapporto di tipo affettivo è troppo insomma ma anche un rapporto un rapporto di un certo tipo come come risulta per esempio dalla novella che ho appena letto di Mopassai che si intitola Chissà questo tipo solitario aveva un rapporto intenso con gli oggetti che popolavano la sua casa adesso quegli oggetti sono questi oggetti queste cose sono sempre più inconsistenti mi piace il termine inconsistente perché significa mancanza di mancanza di un corpo ma anche mancanza di una di un senso spesso sono utili al momento ma poi sono volabili il problema che poi non so che poi molti di voi sentono quando si passa dal libro cartaceo al libro in ebook da qualcosa di tangibile di sottolineabile alla carta che ha un profumo come come dite voi no a qualcosa che invece c'è soltanto in un file è qualcosa che senza un hardware senza un qualcosa che lo riproduce di per sé non esiste ma esiste però se c'è il mezzo che lo che lo riproduce e e sono due cose diverse che per quelli della mia generazione poi insomma hanno hanno una valenza e come lo riconoscete anche voi che avete soprattutto una certa età come sia diverso usare il libro in cartaceo e usare il libro in file oppure usare il libro in cartaceo e ascoltare l'audiolibro sono cose diverse a me vanno bene tutte quante nel senso che penso che uno le deve usare e avere tutte non è un'alternativa per me è una valenza avere di un'opera l'ebook il libro cartaceo e possibilmente l'audiolibro e magari l'audiolibro letto da voci diverse sono sono cose che possono benissimo coesistere che non sono alternative l'uno all'altra ma la realtà è quella che ci stiamo spostando sempre più verso il virtuale e che inevitabilmente per la forza che ha la tecnologia rispetto a tutto il resto quindi il vantaggio economico vediamo poi come sono cambiati i mezzi di riproduzione dal fonobalise dall'i-fi stereo dal proiettore dal visore di diapositive dal videoregistratore a cassette tutti i mezzi che ormai non esistono più dal telefono quello in bachilite nero insomma quello che si usava a tavolo oggetti che i bambini da adesso non riconoscono neanche più non ne capiscono più il senso quindi l'andamento è questo insomma si si va sempre più verso qualcosa di di astratto verso degli oggetti che riassumono in sé sempre più funzioni insomma pensiamo al cellulare di quante funzioni riunisce anche in potenza nel senso che poi ne riunisce in sé di più di quelle che magari siamo capaci singolarmente di operare e quindi questo è il processo nessuna considerazione da fare questa è la direzione volenti o nolenti si va però siamo passati da un piano tanto per riassumere tutto il discorso in cui i ragazzi avevano intorno a sé un mondo all'interno di questo mondo vedevano delle possibilità e in queste possibilità potevano scegliere qualcosa che esisteva nella realtà e la speranza è che questa scelta venisse e con con le procedure giuste si realizzasse e poi desse una certa concretezza alla loro vita insomma una certa stabilità una certa stabilità anche sia per il futuro prossimo che anche per il futuro lontano quando sarebbero arrivati alla pensione adesso quello che è cambiato è che non si può più guardare al presente bisogna guardare al futuro e quindi non si può più avere una visione di quello che c'è ma bisogna crearsi una visione di quello che ci potrà essere e vedete che questa visione poi stando a questi 15 a queste 15 possibilità che ho elencato di un lavoro futuro parla in un'altra lingua parla inglese nella lingua della tecnologia ormai insomma no questa è la realtà sempre che il mondo la natura con le sue leggi con i suoi bisogni perché la natura poi è una cosa concreta e quindi il verde che ci circonda le cose che mangiamo il clima l'aria che respiriamo il mare l'acqua che beviamo non sia poi la vittima ultima di questo processo e se quindi il venir meno della natura con le sue costanti con le sue prerogative non sia quella che poi in ultima analisi condizionerà il futuro con tutto il suo speak english e con questa considerazione io vi vi lascio una buona giornata grazie a tutti